Nel quadro delle iniziative promosse in occasione della dodicesima settimana della cultura dal 16 al 25 aprile 2010 la Galleria Nazionale della Puglia, a Girolamo e Rosario e a Devanna e la Soprintendenza per i beni storici ed artistici ed etno-antropologici della Puglia hanno inaugurato la mostra fotografica Buon Compleanno Galleria, backstage dell'inaugurazione. Qui con me per parlare di questa iniziativa Nuccia Barbone è direttrice della Galleria Bentrovata. Buonasera. Dottoressa, quali sono dunque i temi illustrati in questa mostra? Dunque, questa è una mostra un po' spiritosa, come ama definirla il Soprintendente Fabrizio Vona. Cioè, a un anno dall'inaugurazione della Galleria Nazionale della Puglia abbiamo pensato di far partecipare il pubblico di alcune foto che sono state staccate sono state scattate durante le fasi di allestimento e di organizzazione della Galleria stessa. Le foto sono di Beppe Gernone che con la sua macchina fotografica ha colto dei momenti molto curiosi, carini, aspetti, possiamo dire, inediti, spesso non conosciuti appunto dal pubblico. Per esempio, raccontaci qualche chicca. Allora, qualche chicca è che durante l'allestimento e durante il trasporto dei dipinti dalla casa dei donatori Girolamo e Rosaria Devanna alla Galleria in Palazzo Silos Calò, dobbiamo ricordare la gentilezza e l'ospitalità di Rosaria e Girolamo appunto, che spesso ci offrivano per farci un po' rifocillare dalle fatiche dei dolci preparati in casa, dalla padrona di casa appunto. E quindi abbiamo una foto molto bella che credo sia molto indicativa. Ecco, qui c'è l'illuminato donatore di questa collezione notevolissima e in primo piano ci sono dei vassoi di Bocconotti che sono un dolce tipico di Bitonto, però rigorosamente preparati in casa. E poi altre cose tipo momenti di restauro, momenti di organizzazione proprio materiale, non solo ma anche per quello che riguarda lo stesso restauro dell'immobile, come la posinopera del parquet, la sistemazione degli impianti, che sono aspetti molto complicati, difficili e seri per la vita di un museo che deve essere ospitato in un immobile. Certo. Che cosa avete in programma per festeggiare questa ricorrenza oltre alla mostra? Dunque, oltre alla mostra abbiamo organizzato anche dei concerti, dei concerti per pianoforte. La sera dell'inaugurazione della settimana della cultura abbiamo avuto un concerto di ottoni di allievi del Conservatorio di Bari diretti dal maestro Palmisano. Ieri sera c'è stato un concerto sempre per pianoforte con musiche di Messiaenne e voce recitante. E per la settimana prossima abbiamo ancora Litz e poi Alden e Beethoven, sabato e domenica. Sono allievi del Conservatorio che vengono da noi e suonano un pianoforte che ci è stato generosamente donato da uno sponsor. se posso citarlo? Non lo posso citare, comunque gli siamo riconoscenti perché questo consente di far arrivare nella galleria giovani che insieme appunto alla musica e all'arte speriamo possano crescere come cittadini. Benissimo. Sino a quando sarà possibile visitare la mostra? La mostra durerà per tutto il mese di maggio, però a maggio abbiamo anche altre iniziative in cantiere. Vuoi svelarci qualcosa? E dunque a Bari, cioè a Bitonto in Puglia fa tappa il Giro d'Italia e l'unica tappa è Bitonto. Ci stiamo pensando e ci stiamo organizzando. Bello, bella iniziativa. Allora, dunque buon compleanno galleria. Ora vi lascio con uno speciale condotto da Maria Alessandra Bellomo dedicato alla cantina di Cianna Cianna. Io ringrazio la nostra ospite Lucia Barbone per essere stata qui con noi. Grazie a voi. Buon divertimento. perché soprattutto si vede che vi divertite parecchio a organizzare queste cose. A te Maria Alessandra.